Da Siracusa ci spostiamo a Floridia perché ci hanno detto che c'è una pizzeria famolosa Pizzeria Retournée in via Francesco Crispi, Floridia Però andiamo a scoprire se è verità Signora, buonasera, buonasera, buonasera signora Ci hanno detto, fatto in anteprima, che in questa pizzeria Retournée si fanno delle pizze favolose Ma si mangia solo pizza o c'è altre pietanze? No, abbiamo anche le pietanze di ristorante, qualche primo piatto e secondo piatto di pesce Prima di continuare questa meravigliosa chiacchierata, ci può far conoscere il pizzaiolo? Certo, con piacere, il pizzaiolo è mio marito Addirittura, ma quanti pizzaioli ci sono? Qui abbiamo due pizzaioli più un aiutante perché abbiamo due forni a legna Per smaltire più in fretta le pizze e non fare troppa attesa per i clienti Continuiamo, tu non devi vedere il pizzaiolo? Finalmente il pezzo forte, abbiamo parlato con la signora e ci ha detto che lei è il marito Ma oltre ad essere marito è anche un bravo pizzaiolo Che tipo di pizza fate in questo stupendo ristorante pizzaiolo? Noi facciamo vari tipi di pizza, andando facciamo quattro tipi di impasti L'impasto classico, poi facciamo l'impasto di 5 cereali, l'impasto integrale e l'impasto di tommenia Qual è la pizza più gettonata nella pizzeria Retournée? Come si dice? Retournée, vabbè, bravito Qual è la pizza più gettonata? La pizza che va tanto forte è la pizza Lorenzo, che è una pizza con i frutti di mare Freschi, ci tengo a precisarlo questo freschi perché non è facile oggi Noi andiamo tutti i giorni al mercato, compriamo il pesce, facciamo la pizza Poi le altre, e poi comunque bene o male le pizze vanno un po' tutte Però questa proprio in particolare va tantissimo E siccome la gente è curiosa, ma principalmente come me che sono anche goloso Puoi farci vedere la pizza come ce la prepari? Poi lo diccio Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Complimenti per tutti questi colori Questa è una mozzarella di bufala? No, questa si chiama burrata È una bufala ripiena di stracciatella di mozzarella all'interno e panna Allora, siccome io sono, come ho detto prima, goloso Ma la gente che ci sta vedendo sono più golosi di me Mamma fa la sceggiare un pezzettino Grazie a tutti Mamma mia che morbidezza, complimenti veramente, vi devo fare i complimenti, scusate che mi asciugo perché è favolosa e contita al massimo ma poi bella croccantina. Io invito a tutti quelli che mi avete visto mangiare questa bellissima pizza di venire a trovare questa pizzeria di nome Retournè via Francesco Crispi. Vi prego veramente perché è una favola, favoloso e ora per non farlo dimenticare alle persone che ci stanno seguendo ve lo facciamo ascoltare anche via megafono. Alla pizzeria Retournè in via Francesco Crispi, questa sera karaoke con Salvino e Lucia, grandioso petta menù pan pizza a soli 8 euro, ti aspettiamo. Le persone, i vostri clienti non è che si limitano solamente o li limitate solamente a mangiare la pizza o le altre pietanze, cosa offrite? Noi puntiamo molto sull'intrattenimento che in questo momento è ciò che serve per essere allegri e felici. Facciamo vari eventi, ad esempio, le faccio qualche esempio. Il giovedì e il venerdì organizziamo le serate del karaoke dove le persone sono i protagonisti e non solo questo, hanno l'opzione di prendere il pan pizza che è una promozione che in questo momento va molto forte e del pan pizza si può scegliere di farlo con la carne o col pollo o con la salsiccia, patatine e bevanda a 8 euro, incluso di karaoke e questo per quanto riguarda il giovedì e il venerdì. Mentre il sabato facciamo il jukebox, siamo tornati un pochino indietro nel tempo, come si usava prima, fare delle dediche alla radio. Quindi i nostri clienti, mentre gustano le nostre pizze, possono mandare tramite WhatsApp le dediche ai propri familiari che sono nel loro tavolo e i cantanti canteranno la canzone da loro richiesta. Allora, per far vedere che è tutto vero, io mi avvicino verso questi due bravi ragazzi che sono veramente stupendi come suonano. Ciao, ciao. Voi vi siete di nome? Salvino e Lucia. E Lucia. Siete bravissimi per fare il karaoke. E allora, siccome la titolare vi ha elogiato e vi ha presentato, io direi per far vedere a quelli che ci stanno seguendo, che sono in tantissima e grazie di Dio, di farci ascoltare qualche bella musica. Avete preparato qualche brano? Sì, qualcosa l'abbiamo preparata. Allora, iniziamo. Va bene. Allora, cerchiamo qualcosa. Su una vecchia terrazza, davanti col fodì, sorriento. Un uomo abbraccia una ragazza, dopo che aveva pianto. Poi si schiaisce la voce e ricomincia il canto. Signor Buffo, ci teneva a sottolineare che in un momento di Covid, che in questo momento stiamo attraversando, noi rispettiamo tutte le precauzioni dettate dal decreto del DPCM. Sanificazione? Certo, dalla sanificazione fatta con lo zono, oltre quella effettuata giornalmente da noi, ma anche il distanziamento sociale, l'allontanamento dei tavoli, nelle varie toilette c'è il gel mani, il dispenser in ogni postazione del locale, sia all'ingresso che nella sala interna che esterna, oltre che ai guanti di cucina e le mascherine che ormai dobbiamo abituare a viverci. Queste meravigliose serate che noi abbiamo visto quando vengono eseguite, effettuate. Noi le facciamo, per quanto riguarda il karaoke, lo facciamo il giovedì, il venerdì e la domenica, mentre il sabato facciamo musica dal vivo con il jukebox. Ma non è solo questo, dal lunedì al mercoledì facciamo il giro pizza a 12 euro, una sfida tra cliente e retournè. Vediamo chi vince. Puoi continuare a mangiare all'infinito, fin quando che non lasci nulla, continui a mangiare le pizze a solo 12 euro. Dieta permettendo. Questo è il famoso pan pizza, ciò che le parlavo poco fa. Invece di mangiarlo qua lo posso mangiare anche a casa? Certo, noi facciamo anche il servizio a domicilio, sia per le pan pizza che per le pizze d'asporto. E abbiamo anche una bellissima promozione, ogni pizza una lattina in omaggio. Ma bisogna chiamare in un orario particolare? Può chiamare tutto il giorno, in qualsiasi momento, perché abbiamo dei numeri di telefono, di cellulare. Ma siete cellulare nella consegna? Sì, siamo molto veloci, perché come lei diceva abbiamo due forni a legna e diversi consegnatari, quindi è un servizio molto veloce.